Anche lo Statuto della Regione Lombardia, anzi la Regione Lombardia è una delle poche regioni che ha proprio inserito il principio della democrazia paritaria e quindi della parità di genere. Quanti passi sono stati fatti proprio in Lombardia negli ultimi anni? Io credo che noi siamo l'esempio di questa parità di genere perché noi vediamo quante consiglieri ci sono in Regione Lombardia, ma la cosa principale è vedere quante donne ci sono anche in Giunta. La Giunta Maroni è fortemente femminile e io quindi credo che in Regione Lombardia la parità di genere si è anche ottenuta, ottenuta non solo per l'alternanza, non solo per la legge Golfo Mosca ma anche per merito.